Si intitola Pane e Olio a Teatro, l'iniziativa che si è svolta all'Auditorium della Conciliazione di Roma, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Il Leone e le Cornucopie, con il sostegno della Regione Lazio, con degustazioni gastronomiche per valorizzare e far conoscere i prodotti tipici del Lazio. Oli provenienti dalle province laziali accompagnati da prodotti tipici di panificazione di tutto il territorio regionale, fatti degustare a teatro. Fabio Alescio, promotore e organizzatore dell'evento. Sono state tre giornate straordinarie all'insegna delle grandi degustazioni dei migliori panifici del Lazio e dei migliori oli del Lazio, due prodotti unici, importanti, alla base della nostra cucina. Qui all'Auditorium della Conciliazione centinaia di persone in questi tre giorni, giovanissimi e meno giovani, hanno avuto modo di raggiungerci e attraverso i nostri esperti conoscere i segreti di questi due prodotti importantissimi. Lo chef Andrea Passeri, esperto ed appassionato ricercatore di ingredienti tipici della nostra terra, ha messo a disposizione il proprio expertise, non solo sulle origini e la storia del pane e dell'olio nel Lazio, ma anche sulle possibilità di combinare i piatti della tradizione. Tiziana Biscu, presidente dell'associazione culturale Il Leone e le Cornucopie. Abbiamo dato uno sguardo importante anche al sociale grazie alla presenza di Mario De Chiara, presidente di un'associazione molto importante a Bilioltre, che qui nel Lazio si occupa di includere ragazzi di alcune affetti da disabilità intellettive in alcune realtà di lavoro importanti, non specifico nel food and beverage.